Siamo qui per Life Pack Challenge perché Tommaso Grusò mi ha nominato e intanto ringrazio lui per questo onore che mi ha concesso. Prima di fare questo torcione bello presto vorrei intanto nominare Paolo De Marto che è il mio grande amico, Paolo Cochiglia che ha compiuto gli anni che ho potuto fare quindi sarebbe un bel regalo di compleanno, nonché il mio cognatino Paolo Denti che è abituato alle dolce fredde e non gli farà tanto male questa dolcetta in più. E in più vorrei nominare due persone che in questo momento sono molto vicine a me che sono il mio fratello Michele Sorato e mia sorella Rolema Sorato. E adesso doccia!